Questa è una ricerca bellissima, magica, è un momento in cui io mi sto divertendo moltissimo ma più che divertirmi perché sto imparando un sacco di cose sul Salento, sulle sue musiche, su tutto il suo patrimonio che deve essere considerato patrimonio dell'umanità per quanto è bello. Voi sapete come me che per questo servono soldi e quindi vi prego di non dimenticarlo questo fatto. Purtroppo le idee più grandiose si poggiano sempre sulla miseria dei soldi, quindi mi trovo qui a chiedere da miserabile che vi ricordiate questo fatto. Ma aiutateci perché quello che stiamo facendo è proprio bello.